Ciao ragazzi, un breve aggiornamento, siamo davanti allo store di Roma Est, come al solito, accampati uso propri. Tutti il gruppo è lì, che parlano e conversano come se fossero gli amici di vecchia data. In realtà non sta ponendo ancora gente, non siamo rimasti quelli di prima, insomma, si è aggiunta solo una ragazza, un paio di persone. E tutto procede molto tranquillamente. Alle 10.30 vi ricordo che dovremo uscire dal centro commerciale perché chiuderà e aspetteremo fuori. Ovviamente stiamo distribuendo dei bigliettini numerati e prendiamo il nome e faremo un contrappello circa ogni due ore in modo tale da evitare purbetti. Va bene, questo è tutto. Al prossimo aggiornamento, cari amicissimi di iSpazzissimo.